Siamo in Rue di Tavis, è appena esploso qualcosa qua davanti a Parigi e questa è la mia stanza d'albergo e questa è la strada mi esplosa in faccia proprio devo allontanarmi per forza vogliono se mi allontani mi devo restire qui c'è gente che urla ok usciamo dall'albergo vediamo cosa sta succedendo qua fuori veramente non vogliono più che si filmi ci hanno portato in un altro albergo per cure mediche qui ci sono persone ferite la situazione è abbastanza grave chiaramente è stato creato un perimetro da cui hanno fatto uscire tutti tranne noi feriti e siamo appena dietro l'angolo dell'hotel di Rue de Trevis dove è scoppiata la bomba esattamente la e questa è la situazione in questo momento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti